La proprietà Appena che spuntò l'arcobaleno, la tartaruga uscì, ma la fiumana, d'acqua piovana, la rivorticò. «Cesemo!» sospirò. «Questa è la vita!» Ero la proprietaria di una bella casetta e soffinita con le zampe per l'aria. Come la vide Ruzzi Canerfosso, una ranocchia gli strillò. «Lo vedi? Se schiava della roba che possiedi, campavi meglio senza pesi addosso. Chi non c'ha niente in forno se ne frega di tutti, in tempi belli o brutti è padrone del mondo». «Cesemo!» «Cesemo!»